Visita del Sindaco di Pescara questa mattina nel reparto di geriatria dell'ospedale civile Santo Spirito. Masci, un reparto che in passato ha avuto anche delle criticità, soprattutto problemi di sovraffollamento. Oggi siete qui proprio per visitare questo reparto e vedere qual è la situazione. Sì, diciamo che le criticità si sono verificate anche negli ultimi giorni, nel periodo estivo. Abbiamo visto scene che in una città civile non dovrebbero esserci e quindi sono venuto sollecitato dal consigliere Pignoli a verificare qual è la situazione, a parlare con il primario per capire bene come si può intervenire. Perché io l'avevo detto in campagna elettorale che non sarei stato il sindaco chiuso nel palazzo e soprattutto non sarei stato il sindaco che si interessava soltanto dei problemi del comune inteso come palazzo di città, ma che si interessava di tutto quello che riguardava i cittadini di Pescara. E niente di più riguarda i cittadini di Pescara che l'ospedale. Per questo sono qui, oltretutto arrivo in ospedale a vedere le criticità e rimango bloccato dentro l'ascensore. Quindi è chiaro che ci sono situazioni che devono essere registrate, migliorate e io mi auguro che con il nuovo direttore generale ci possa essere quella spinta che i cittadini di Pescara cercano per avere un ospedale all'avanguardia perché i medici sono sicuramente preparati, ci sono dei reparti ottimi che sono delle eccellenze in Italia e in Europa però io spero che tutto l'ospedale possa veramente diventare una grande eccellenza partendo dal dia di secondo livello che è indispensabile per far funzionare la sanità non a Pescara ma in Abruzzo. Consigliere Pignoli oggi la visita, lo aveva detto nei giorni scorsi, con il sindaco nel reparto di geriatria dell'ospedale. Cosa chiederete al personale medico ed infermieristico? La civiltà, l'essere civile, cioè che quando una persona anziana è malata deve avere il rispetto della civiltà deve avere il rispetto degli spazi e ovviamente chiediamo anche rispetto per i dipendenti che ci lavorano perché non è possibile che ci sono medici, infermieri che devono sopportare un sovrannumero di persone sempre e costante durante i 365 giorni all'anno. Non è possibile che nel periodo estivo e nei periodi invernali debba uscire sempre nelle locandine del centro del messaggero e dei quotidiani online che ha il problema praticamente di geriatria. Non è più possibile, la geriatria deve uscire invece come un reparto di eccellenza.